Siamo della società Amatori Basket di Fonte Nuova, provincia di Roma. Questa è la seconda volta che partecipiamo al torneo di Vasto. Siamo stati benissimo già la prima volta per cui abbiamo voluto ripetere questa esperienza. Ci stiamo già ambientando benissimo, c'è molta affluenza di squadre, molta allegria, c'è bel tempo, si sta bene e speriamo, anzi siamo sicuri che va tutto a buon fine. Uno, due, tre, forza San Palè! Non c'è un capitano, non c'è! Mi chiamo Andri, cognome da Fani, sono il capitano e di solito gioco in difesa. Di solito il gioco in difesa, la mia media è 8.2. Chi è la media più alta? Mattia, un mio amico 8.9, però non c'è. Vorresti, mi piacerebbe!